Costruiti e certificati in Toscana, quelli che si stanno muovendo alle mie spalle sono i nuovi treni che entreranno in servizio sulle linee ferroviarie regionali nelle prossime settimane. Si tratta di due nuovi ROC che fanno parte del contratto di servizio con Trenitalia e che andranno a potenziare l'offerta regionale. Treni dotati di ogni comfort, sistemi di videosorveglianza, spazio per le bici, attrezzati per il trasporto di persone con disabilità e ovviamente resi funzionali in modo da garantire la sicurezza di ogni passeggero. La presentazione dei nuovi mezzi si è tenuta al deposito di Trenitalia allo Smannoro a Firenze, una presentazione chiusa alla cittadinanza nel rispetto delle disposizioni sanitarie anti-Covid. Avrei voluto poter mostrare due nuovi ROC in una cerimonia aperta a tutti, ha detto l'assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli, perché so quanto siano attesi dai pendolari. La Toscana comunque sta ripartendo e questi due nuovi treni ne sono il segnale. Tanto questi nuovi treni sono veramente il simbolo della ripartenza, ripartenza dopo questa pandemia, una ripartenza che è fatta anche di cambiamento. Quindi treni nuovi, maggiormente confortevoli, accessibili alle biciclette, con maggiori spazi per quanto riguarda i bagagli, ma anche maggiore attenzione all'ambiente e quindi maggiore sostenibilità. Questi treni sono treni costruiti interamente in Toscana e anche certificati dall'ente certificatore che ha sede qui in Toscana, di cui la regione si onora di far parte, che è appunto ItalCertifer. Quindi questo credo sia un valore aggiunto e tutto questo scaturisce dal contratto che abbiamo firmato a fine dello scorso anno, un contratto per 15 anni da circa 7 miliardi, di cui un miliardo però vanno in investimenti. 100 treni nuovi che rinnoveranno tutta la flotta, portandola ad un'unità media entro il 2023 di circa 7 anni. Comfort, spazio per le biciclette, possibilità di ricaricarle, videosorveglianza. All'eccellenza tecnologica però di questi tempi deve obbligatoriamente accompagnarsi anche la cura e l'attenzione sanitaria. All'interno dei mezzi, percorsi separati per la salita e la discesa, cartelli per indicare le sedute da poter occupare e ovviamente una sanificazione quotidiana. Sono treni che sono attrezzati con tutte le misure di sicurezza perché la nostra priorità è la tutela della salute delle persone che trasportiamo, ma anche delle persone che lavorano con noi in azienda. E' quindi previsto distanziamento a bordo, quindi con sistema di occupazione a scacchiera. Sono previsti dei percorsi che permettono di entrate e di uscita differenziate, appunto per evitare contatti. Sono previsti l'attrezzaggio dei dispensari con gel disinfettante e soprattutto la sanificazione che viene fatta ogni giorno, anche con disinfezione, con tutti i prodotti che sono previsti appunto dai protocolli del Ministero della Salute.